Oggi c'è questa protesta qui sotto il Consiglio regionale a Pescara, voi siete genitori di bambini che hanno problemi di autismo. Chiedete alla Regione di non tagliare dei fondi che metterebbero a serio rischio l'assistenza ai vostri figli. Oltre che chiediamo alla Regione di non tagliare i fondi, chiediamo alla Regione di erogare dei fondi che già sono stati stanziati. Il problema grosso è che questi ragazzi hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24. Perché sono completamente non autosufficienti. Se dovesse persistere questa situazione che la Regione non eroga i fondi, il Centro ha già comunicato che le prestazioni verranno tagliate. Questo significa che i nostri ragazzi probabilmente saranno costretti a rimanere a casa e a non soffrire di assistenza da parte di operatori specializzati che sono fondamentali per cercare di migliorare la loro situazione di vita e la loro autosufficienza. Il problema grosso è che in mancanza di questa assistenza che cosa succede? Noi genitori non sappiamo che cosa succederà quando noi non ci saremo più. Quindi il problema grosso per questi ragazzi è garantirgli un futuro e un minimo di umanità e di autosufficienza per cercare di far fare a questi ragazzi una vita il più degna possibile.